Oltre a un milione di euro per la ciclopedonalità, a Belluno stanno per partire tre cantieri per la sicurezza di pedoni e ciclisti. Uno riguarda via Meassa, con 130.000 euro verranno realizzati un percorso pedonale sul lato sud della SP1 e uno ciclopedonale sul lato nord, ovvero quello più vicino al nucleo di abitazioni di Oltrevalle. L'obiettivo è rendere più sicuro l'avvicinamento alle fermate dell'autobus, oltre a garantire una maggiore tranquillità a chi non usa la macchina. In via Vecellio invece gli interventi sono due. Il primo coinvolge il tratto tra la Veneggia e il Bivio con via Tomea. Innanzitutto il ponte di fronte al centro commerciale Mega sarà leggermente allargato per regalare più spazio a ciclisti e pedoni e diventerà il primo tratto della pista che arriverà fino a via Tomea e che correrà lungo il lato nord della strada. Il fossato attualmente presente sarà coperto e intubato. In totale l'intervento costerà 600.000 euro, di cui 270.000 in arrivo da un bando regionale. Il secondo cantiere riguarda il tratto successivo fino all'ex Invensis, vale 328.000 euro, ed è inserito nel piano di rigenerazione urbana. Entrò la fine del 2021, tutti e tre gli interventi dovrebbero essere ottimati.